Sabato sera sono scesi in strada in molti, richiamati dal suono degli allarmi antifurto e dalle sirene delle forze dell'ordine. Ora un gruppo di cittadini di Zerman ha deciso di ritrovarsi ogni sera dalle 18 per delle passeggiate di controllo o di disturbo ai predoni che negli ultimi giorni hanno messo a ferro e fuoco la piccola frazione. Ma guai a chiamarle ronde, men che meno armate. Non ho visto, ripeto, né bastoni né armi. Siamo amici e abbiamo fatto tutto, anche divertendoci tutto sabato. Nonostante la drammaticità del momento. A lanciare l'idea delle passeggiate serali, tra gli altri il consigliere della Lega Roberto Zanardo. Adesso teneremo gli occhi aperti, abbiamo pensato anche di qualche volta fare qualche cerietto così notturno per vedere se vediamo qualche movimento e durante il giorno staremo attenti. Qui c'è gente esasperata che si barica in casa, non è più vita per noi questa qua. Ma intanto il solo evocare le ronde di padana memoria ha sollevato a Mogliano la polemica politica. Abbiamo letto di cittadini che sono usciti armati con mazze da baseball, piuttosto che spranghe addirittura con una pistola e questo sinceramente ci preoccupa. Crediamo che sia ancora più grave il fatto che c'erano esponenti dell'amministrazione comunale insieme a queste persone che in qualche modo legittimavano anche dal punto di vista istituzionale questo tipo di interventi. Il nostro punto di vista è che l'ordine pubblico e la sicurezza in uno stato di diritto sono affidati alle forze dell'ordine che in questo momento stanno facendo uno sforzo importante nella moltiplicazione delle loro forze per coprire appunto una problematicità che c'è in questo momento all'interno del territorio in maniera più acuta. Da oggi l'arma dei carabinieri ha potenziato ancora di più il dispositivo di controllo con l'arrivo dei militari del quarto battaglione di Venezia Mestre. A loro e solo a loro, secondo il PD, spetta la vigilanza attiva sul territorio. Capiamo benissimo i cittadini. La paura è un sentimento umano e come tale va compreso e rispettato. Tuttavia il compito delle istituzioni è quello di governare le paure, non certo di cavalcarle. E sulla questione passeggiate e serali oggi è intervenuto anche il sindaco Bortolato. La cittadinanza è libera di fare quello che vuole, di comportarsi come vuole per sentirsi più tranquilla. Certo è che le passeggiate che hanno fatto ieri sera e l'altro ieri sera assolutamente non fanno del male. Anzi, ho sentito altri consiglieri di maggioranza e anche io stesso probabilmente andrò questa sera con loro a supportare questa azione che, ripeto, non è un'azione che vuole sostituirsi ma è un'azione che vuole dare una mano, occhi in più sul territorio per controllare le nostre vie e le nostre case.